Montori Alvomano ospita il primo concorso organistico internazionale, evento promosso dalla Proloco di Montorio in collaborazione con il Comune per valorizzare l'organo più antico d'Abruzzo. È il fioralocchiello del nostro calendario di manifestazione per quello che riguarda l'autunno, l'amministrazione l'appoggia in maniera molto forte e spera che questa manifestazione neonata possa crescere e sviluppare comunque interesse verso il nostro territorio che ha bisogno comunque di essere ancora visitato e conosciuto per quello che ha di bello a partire da quest'organo che è il più antico d'Abruzzo come dicevi e che sicuramente farà bella mostra di sé nei giorni di sabato e domenica. Segue un filone che abbiamo intrapreso già circa dieci anni fa di direzione artistica della Proloco, quello di valorizzare non solo le tradizioni ma anche le caratteristiche uniche che ci sono nel territorio, presente nel territorio del nostro Comune. Nel 2012 è stato restaurato l'organo di Montorio, l'organo della collegiata di San Rocco che è stato definito l'organo più antico d'Abruzzo, un organo cinquecentesco, poi di impianto seicentesco in realtà ma che ha origini alla fine del Cinquecento e quindi con questo concorso internazionale vogliamo far conoscere il nostro organo su tutto il territorio nazionale. Un evento promosso dalla Proloco di Montorio sempre attenta agli eventi? Sicuramente sì, poi nel momento in cui ci siamo accorti di avere questo gioiello a Montorio che è nel Cinquecento praticamente, è chiaramente che ci ha riempito d'orgoglio e lo curiamo in modo affettuoso proprio. Nella giuria grandi nomi del mondo organistico internazionale. Matteo Inbruno che è organista della Regina d'Olanda, Laude Kirk, Anton Pam che è docente al Conservatorio di Amsterdam e il maestro Gian Domenico Piermarini, organista della Basilica Papale di Roma, nonché direttore del Conservatorio dell'Aquila che sponsorizza questa manifestazione proprio per dare lustro e equità anche di giudizio ai partecipanti. Grazie. Grazie.